12.16.20, proveniente da Salerno, e in arrivo al binario, vicino, attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. 12.16.20, proveniente da Salerno, e in arrivo al binario, vicino, attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. 12.16.20, proveniente da Salerno, e in arrivo al binario, vicino, attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. 13.17.20, proveniente da Salerno, e in arrivo al binario, vicino, attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.